miei cari amici ben trovati ci troviamo ancora a santa severa in provincia di roma lungo l'importante linea terrenica per svelare la parte più interessante seppur meno nota di questa stazione di fatti invisibile agli occhi sia dalle banchine che dalla parallela via aurelia si nasconde un vasto parco ferroviario che ospita nei suoi binari morti veicoli per la manutenzione della linea nonché occasionalmente veicoli demolendi ma partiamo subito per questa nostra esplorazione modesta ma comunque ricca di curiosità punto di partenza ideale il binario 5 da cui per mezzo di questo scambio si distacca il classico binario che con una strettissima curva raggiunge la sottostazione elettrica per ogni esigenza manutentiva e merita certamente un cenno in una ferrovia oramai intrisa di tecnologia questa scarpa ferma carro con manovra manuale per mezzo dell'apposito macaco e come non citare alle nostre spalle quello che potremmo definire un vero pezzo di archeologia ferroviaria ciò che resta di un vecchissimo paraurti realizzato con traverse ferroviaria ripartiamo chiaramente come potete osservare il binario non riceve rotabili da anni ed una delle rotaie addirittura scomparsa sotto un consistente strato di ghiaia e terriccio depositatosi con il tempo ma ecco sullo sfondo il nostro primo obiettivo la sottostazione elettrica di rete ferroviaria italiana che qui possiamo osservare in alcuni scatti le sottostazioni come ben sapete sono quei fondamentali nodi elettrici dove l'energia elettrica ad alta tensione e corrente alternata prelevata dalla rete primaria viene prima trasformata e convertita nei classici 3 chilovolti in corrente continua e quindi messa sulla linea area di contatto il cosiddetto sistema della catenaria qualche decina di metri ancora e ci ritroviamo nel piazzale cui prima accennavo e che potete osservare in queste immagini satellitare ospita una possente rincalzatrice una macchina per la manutenzione ordinaria e sistematica della geometria del binario delle linee ferroviarie le cui funzioni sono quelle di effettuare le misure della difettosità della geometria del binario di sollevarlo e traslarlo per portarla a livello alla posizione richieste dalle specifiche di costruzione o manutentive nonché di provvedere alla sua stabilizzazione tramite la rincalzatura della massicciata sotto il piano di appoggio delle traverse e così cari amici siamo giunti alla fine di questa nostra breve escursione mi auguro che il video sia stato di vostro gradimento e vi invito a mettere un bel like nonché se non l'avete ancora fatto ad iscrivervi al canale un caro saluto a tutti e che le rotaie siano con noi